Ciao ragazzi, allora finalmente sembra che stia uscendo quel sole che ormai stiamo aspettando da giorni. Allora, oggi io vi vorrei parlare, riprendere un po' quell'argomento che avevo tralasciato nei giorni del corso perché mi ero dovuto dedicare a questo evento che noi facciamo due volte l'anno e quindi mi ero concentrato sui filmati che si riferivano appunto a questa occasione di trovarci tutti insieme di scambiarci le esperienze e di poter parlare per tante ore di cani e avevo quindi sospeso questo argomento di dove le persone normalmente vanno ad acquistare i loro cani da guardia. Allora, uno dei punti, uno o meglio, uno dei luoghi dove le persone continuano ancora ad andare spesso a comprare il cane da guardia è presso l'addestratore. Allora, premetto che ci sono addestratori assolutamente professionali e seri che sanno distinguere benissimo la grande differenza che c'è fra un cane da guardia ovvero quel cane che deve occuparsi della proprietà in modo autonome e quindi anche loro sanno benissimo che non può essere addestrato da altri addestratori un po' meno professionali che confondono volutamente quello che è il cane da guardia e quello che è il cane sportivo e quello che è quel cane che si può poi addestrare successivamente in qualche modo alla difesa e di conseguenza consigliano quei cuccioli ai quali possa essere fatto facilmente un certo tipo di obedience e successivamente magari insegnato a mordere, stimolato all'aggressività magari attraverso poi anche prove effettive di dimostrazione sul cane che va poi a mordere la manica e successivamente la tutta. Ecco, è molto importante capire che laggiù dove l'addestratore è serio sarà il primo a dirvi che fra cane da guardia e cane da difesa e cane sportivo o anche fra cane da guardia e quel cane che vi fanno vedere che morde che ha questo istinto predatorio di afferrare tutto ciò che gli viene proposto c'è una grande differenza perché sono proprio le tipologie di cani diversi. I cani da guardia sono soggetti che assolutamente non vengono scelti dagli addestratori perché è troppo difficile insegnare loro l'obbedience, nello sport sarebbe impossibile portarli a fare certe performance e non sarebbero indicati a quelle persone che magari si vogliono un cane da difesa che difenda magari loro oppure la famiglia ma vogliono anche magari poterli portare in giro, possono tenerli in ambienti chiusi eccetera. Allora solitamente determinate razze che sono quelle facilmente addestrabili che sono quelle come dire indicate da certi addestratori ecco si manifesteranno sicuramente degli ottimi cani, dei cani ubbidienti ma non avranno mai quella caratteristica indispensabile che deve avere il vostro cane di successo ovvero l'autonomia, ovvero l'indipendenza. Quasi mai il cane dovrà entrare in azione quando voi ci sarete e quindi non essendoci in quella occasione voi non potrete mai dare un comando tipo attacca, mordi, proteggimi, assolutamente il cane, la guardia entrerà in azione quando voi dormirete quando voi sarete distratti o quando voi non sarete presenti in casa quindi non sarà utile nulla di tutto questo addestramento che molti pensano di volarli dare di conseguenza è molto importante capire che nel momento in cui voi addestrate il vostro cane come fosse un gioco, ovvero gli iniziate a far mordere lo straccetto e gli date un premio poi passerà al salamotto, poi passerà alla manica e alla tuta lui non morderà sicuramente con intenzione di difesa, di proteggersi ma morderà perché capirà che quel percorso messo come gioco tant'è che è consentito anche dalle varie federazioni sportive gli porterà un beneficio e il beneficio è quel pezzettino di carne quel pezzettino di Wuster, quel premio in cibo che gli viene dato ogni volta ecco questo non ha nulla a che vedere con il cane da guardia il cane da guardia deve già nascere con questi istinti deve essere un cane che fin da piccolo ha questa predisposizione nel DNA ma la deve fare spontaneamente e non può essere mai vietata altrimenti si mortifica quello che può essere il suo istinto di conseguenza capire questa grande differenza che c'è fra un cane da guardia e un cane da difesa o che può essere addestrato per altri scopi sportivi bene, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata ciao ragazzi, a presto